Fucushima a zero al nucleare! Cazzo! Questi qui hanno il debito! Poi succede che noi facciamo un referendum, ve lo ricordate, 27 milioni di italiani dicono no all'acqua privatizzata, nessuna multinazionale viene in un paese dove 27 milioni di italiani hanno detto no all'acqua privatizzata e loro hanno questo debito e cosa facciamo? 500 miliardi i francesi, 300 miliardi i tedeschi, 100 miliardi gli inglesi, un po' i cinesi perché questa merda che aveva dei nostri bot andava in Cina e non vendeva i boom dei tedeschi, vendeva i bot italiani e allora Tremonti faceva da garante, i cinesi hanno preso il 10% del nostro debito in cambio di rassicurazioni del mercato italiano attraverso i cinesi, quindi gli facciamo dei corridoi privilegiati, detassati, in modo che i cinesi vengano ad aprire delle aziende da noi con un trattamento fiscale particolare, a te ti fanno un culo così, al cinese no! E allora? Noi andremo a lavorare in strutture cinesi, faremo noi i cinesi dei cinesi!